Prego, prego! E cos'è c'è? Cos'è c'è? Ammonizia c'è a dire, levo la spazzatura, la spazzatura. Ma in quale c'è? Non è prescito! Non è prescito! Ammonizia faccio l'uomo, ammonizia! Non possono fare questa passiata! Non ti fanno la passiata! Stanno lavorando! Stanno lavorando! Stanno lavorando! Ma stamattina stanno lavorando! Stanno lavorando? Appena ritorna lo vedrà! Speriamo! Ammonizia faccio l'uomo! Stanno lavorando!